quindi ok, quindi io lascerei così a questo punto se noi ci portiamo all'inizio del filmato vediamo che la nuvola appare gradatamente quindi se noi vogliamo che ci sia subito fin dall'inizio del filmato facciamo semplicemente così espandete il livello nuvola vedete qua nella timeline cliccando sulla freccetta grigia espandete trasformazione quindi vi portate quando volete che la nuvola inizi così vedete che qua si forma e qua c'è già la nuvola intera quindi vi spostate un po' prima quando c'è la nuvola intera e impostate un fotogramma per l'opacità cliccando sul cronometro di fianco e portate l'opacità a 0 no, scusate a 100 anzi no, a 0 mettete a 0 poi vi portate un po' più in avanti anzi un fotogramma più in avanti portate l'opacità a 100 quindi spostate il livello nuvola all'inizio della timeline cioè spostate dove ci sono i fotogrammi vedete qua in basso all'inizio della timeline in questo modo troverete la nuvola fin dall'inizio del filmato poi io mi sono sbagliato vi ho fatto creare due fotogrammi vedete qua invece ce ne vuole solo uno quello dove c'è l'opacità a 100 quindi togliete quello indietro quindi spostiamo qua dove c'è il fotogramma all'inizio della timeline e in questo modo vedremo che dall'inizio troviamo la nuvola già pronta ok, a questo punto dobbiamo fare effettuare un movimento come mi hanno richiesto per fare effettuare il movimento alla nuvola espandiamo emitter e ci portiamo all'inizio del filmato clicchiamo sul cronometro di fianco a position X e Y poi ci portiamo dove vogliamo insomma che la nuvola si muova un po' più avanti quindi ad esempio a due secondi e clicchiamo sul mirino chiamiamolo così di fianco a position X ed Y e la portiamo più ad esempio a destra aspettiamo che si aggiorni e vedete che si è spostata altrimenti un altro metodo quindi togliamo il fotogramma position X ed Y ricliccando sul cronometro e riportiamo il centro dove era prima e vedete che ora la nuvola non si sposta più un altro metodo è utilizzare il vento quindi andiamo giù e andiamo in physics e dovremo modificare il vento X, vento Y e vento Z quindi ci portiamo all'inizio del filmato mettiamo un fotogramma per vento X quindi orizzontalmente ci portiamo un po' più avanti a due secondi e cambiamo il vento e vedete che la nuvola si sposta questo qua è un altro metodo per creare appunto lo spostamento della nuvola e vedete che la nuvola così si sposta perfetto grazie per aver seguito questo tutorial per qualsiasi dubbio non esistate a chiedere nel forum o per qualsiasi difetto in questo tutorial e non esitate sempre a chiedere nel forum che è linkato nella descrizione del video